Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 144esima puntata del podcast di Marcos Box. 144, come i numerini, vi ricordate? Mi sa di no eh, sono troppo vecchio io, vabbè. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero open source. Questa puntata sarà molto dedicata a Ubuntu, ma per vari aspetti. Vediamo, vediamo. Anzi, ascoltiamo. Perché questa puntata sarà quasi interamente dedicata a Ubuntu? Perché c'è stato il rilascio della nuova versi di Ubuntu? E' stato annunciato in nome e in codice della prossima edizione di Ubuntu? E poi ci sono stati alcuni post che ho pubblicato sulle pagine di Marcos Box che hanno suscitato un po' di polemica, hanno suscitato un po' di discussione. Hanno ravvivato un po' la situazione commenti sia su blog che su tutti quanti i profili social. Perché quando si parla di Ubuntu succede ogni volta appuntamente la stessa cosa. Si scatina. Stanno i supporti da una parte, stanno gli hateri dall'altra parte. Ogni tanto gli hateri supporti trovano dei punti d'incontro, però c'è sempre movimento. Ma iniziamo con ordine e iniziamo con la prima notizia. Ovvero con il rilascio di Ubuntu 23.04 domi in codice Lunar Lobster. La nuova release semestrale di Ubuntu, quindi non RTS. E ovviamente sono state rilasciate anche i suoi flavors ufficiali. Sto parlando di Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Cinema, Ubuntu Kain, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, ex Ubuntu. Che sembra i solo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Questo giro, come avete potuto, in modo di ascoltare ci sono due nuovi flavors ufficiali. Ovvero Ubuntu Cinema e Ubuntu Unity. Che vanno a rimpinguare la grande famiglia di Ubuntu. Ovvero sta diventando un po' troppo affogata Ubuntu con tutti questi flavors ufficiali. Vabbè, comunque è il bello dell'open source. Ce n'è per tutti quanti i gusti. Perché parliamo di Ubuntu? Perché questo rilascio di Ubuntu è importante? Perché introduce Gnome 44 per la prima volta. Quindi, vabbè, questa è una cosa che può non interessare a molti di voi. Però è anche simpatica da vedere che è arrivato Gnome 44 su Ubuntu. Ma non è arrivato su Arch Linux. O meglio, non è ancora arrivato su Arch Linux. E introduce poi una cosa molto importante. Ovvero un nuovo installer scritto in Flutter. Un nuovo installer che, a detta di Ubuntu, dei sviluppatori di Ubuntu dovrebbe migliorare l'installazione, renderla più facile. Però, c'è un però grande comune a casa, questo installer è ancora problematico. Ma ve ne parlerò più avanti nella puntata del blog. Per quanto riguarda i flavors ufficiali, poche novità. Anzi, pochissime novità. Perché l'edizione quella con KDE, quindi Ubuntu utilizza l'ultima versione di KDE Plasma 5.27, con KDE Frameworks 5.104 e KDE Gear 22.1. Ubuntu Mate non aggiunga praticamente niente, perché per stessa ammissione dei sviluppatori di Radisto si tratta della release meno entusiasmante di sempre. Introduce soltanto qualche correzione di bug e un nuovo set di sfonti generati mediante intelligenza artificiale. Questa è l'unica novità. Come vi dicevo prima, un nuovo arrivato nella famiglia di Ubuntu, Ubuntu Cinnamon. Il nuovo framework ufficiale fa l'utilizzo di Ubuntu, scusate, di Cinnamon Dex Open Environment e per la precisione viene rilasciato con Cinnamon 5.6.7. Su Marcosbox trovate i link per poter scaricare le varie ISO, trovate i link con le istruzioni per poter aggiornare da Ubuntu 22.10 a Ubuntu 23.04 e trovate poi anche le note di rilascio complete con anche un video che mostra il nuovo Instagram. Questa grande novità che vediamo più avanti, vediamo più avanti, perché è una grande novità che lascia un po' la mano in bocca. E perché rilascia la mano in bocca il nuovo installer scritto in Flutter che troviamo su Ubuntu? Di default su Ubuntu, perché... Perché ne ho parlato in un articolo, barra sfogo, barra lamentereo, come lo volete chiamare voi, dal titolo Ubuntu, amore mio, non ti riconosco più. Dopo mesi di latitanza dal mondo di Ubuntu, ho deciso di tornare a casa alla distribuzione che più ho amato e consigliato ai grandi e piccini. Quando la gente mi chiedeva che distro devo utilizzare, io dicevo sempre Ubuntu, proprio Ubuntu, proprio Ubuntu, perché era un po' in mantra, perché facilitava l'installazione, addirittura nell'epoca che fu, c'era anche la possibilità di installarlo con Wubi all'interno di Windows, quindi senza formatare, quindi era una grandissima cosa, ho convertito tantissima gente a Linux, proprio grazie a questo. Poi sapete un po', Ubuntu si è perso un po' di strada, soprattutto perché Canonical ha deciso di togliere il pieno dall'acceleratore, dallo sviluppo di Ubuntu, e dedicarsi ad altri progetti più remunerativi, quindi la Ubuntu su Dexop è diventato un po' il figlio di serie, nemmeno serie B, serie D. Nel corso degli ultimi mesi, come vi dicevo, ho provato, ho provato varie distribuzioni, mi sono accasato prima su Endeavor con KDE, poi ho provato Fedora 38 Workstation, che utilizzo ancora oggi, perché subito, dopo aver provato Ubuntu, ho deciso di più arrivare e di ritornare a Fedora 38 Workstation, quindi l'edizione principale con Gnome, nel frattempo arrivano delle notifiche, non fateci caso, e perché mi lamento dell'Installer? Perché mi sono dovuto scontrare con il fatto che il nuovo Installer non funziona meglio sulla mia configurazione. Durante il ciclo di sviluppo di Ubuntu 23.04 era stata annunciata l'introduzione dell'arrivo di questo nuovo Installer scritto in Flutter e Canonica però aveva anche detto alle persone che volevano provare la distribuzione guardate, non vi preoccupate, manteremo comunque la possibilità di utilizzare il vecchio Installer per chi ha problemi. Purtroppo questo nuovo Installer ha problemi. C'è un bug, un bug che è presente fin dall'inizio, fin da quando è stato introdotto il nuovo Installer durante il ciclo di sviluppo di Ubuntu 23.04 quindi non è un bug dell'ultimo minuto che non è una cosa che si è scoperta all'ultimo minuto ma è un bug che si sapeva fin dall'inizio che c'era all'interno di questo Installer e è un bug che affligge gli utenti a quanto pare gli utenti come me che hanno una configurazione con scheda video Nvidia l'Installer praticamente crasha. Crasha? Crasha di brutto. Vi ritrovate che lanciate l'Installer il nuovo Installer scritto in Flutter su Ubuntu 23.04 e dopo la configurazione e le fasi finali dell'installazione quando parte Alibu si oprinde e pum sparisce sparisce l'Installer sparisce crasha, crasha tutto crasha tutto o meglio crasha l'interfaccia grafica perché? perché in sottofondo l'Installer continua a funzionare ed è quello che mi è capitato a me l'altro giorno quando ho deciso di riprovare Ubuntu su macchina reale mannaggia e me che faccio queste cose qua e non le provo in VirtualBox prima che cosa è successo? è successo che ho installato ho installato Ubuntu mi è crashato l'Installer ho imprecato tutti i santi new e però poi ho mantenuto il sangue freddo perché ho visto che la lucina dell'SSD continuava a lampeggiare quindi ho detto quello sta scrivendo qualcosa quindi può darsi che è crashata soltanto l'interfaccia grafica che l'Installer sta proseguendo vi ho detto lo lasciamo sì ancora faccio danni sulle partizioni e qua è andato alla fine alla fine mi sono andato mi sono alzato un attimo sono andato a farmi un giretto sono andato in cucina a prepararmi un caffè dopo un po' visto che sono tornato al PC la lucina era spenta non campeggiava più ho riavviato e con sorpresa il processo di installazione era finito e la distro era stata installata come dicevo è un bug che è capitato è collegato alle schede in video e in video da quel che ho potuto vedere però non è un bug che accapita soltanto a persone che hanno le schede video e in video e queste configurazioni perché cercando Ryan ho trovato anche altri casi di crash dell'installer ho avuto conferma da parte di diversi lettori uno che ha lamentato il problema durante l'installazione di macchine virtuali un altro addirittura con un bug in pieno stile Giannini che mi ha detto che il bug a cui si è verificato il crash si è verificato si verifica o meglio soltanto in presenza di un mouse wireless un mouse senza figli collegato se non c'è questo mouse senza figli c'è un mouse normale l'installer non crasha perché perché mi sono incazzato perché allora negli noti di rilascio di Ubuntu 23.04 si era parlato della presenza del vecchio installer sulla distro errore mio devo essere sincero non avevo visto che loro intendivano non la presenza del vecchio installer sulla distro ma la presenza di una doppia ISO c'era una ISO normale che mi è stata poi fatta notare perché io quando avevo scaricato Ubuntu 23.04 quel giorno ero partito direttamente dai micro quindi non ci avevo fatto caso viene pubblicizzato sulla home page di Ubuntu ormai viene pubblicato con una piccola scritta sotto che c'è una ISO una ISO che ha ancora il vecchio installer e mi viene però adesso mi è venuta la rabbia mi è venuta la rabbia quando ho visto questa situazione perché ho detto Ubuntu che cavolo mi combini possibile mai che tu spingi proponi un nuovo installer c'è un bug grosso come una casa quello delle schede video invidia che affligge tante persone vuoi cercare di fixarlo prima del rilascio della versione semestrale non te l'ha detto il dottore che doveva uscire per forza in quella data potevi fare e qui mi pesa molto ammetterlo potevi fare come fanno altre distribuzioni più blasonate più serie a questo punto come Fedora come Debian che in caso di problemi con bug bloccanti come questi dicono momento non c'è bisogno che rilasciamo in quella data pianificata possiamo anche far slittare un po' la cosa tanto non ce lo dice il dottore non c'è nessuno che ci obbliga a pubblicare una nuova versione e in questo caso perché non l'hanno fatto perché hanno buttato così questo installer che francamente è fatto malissimo soprattutto perché poi mancano anche alcune funzionalità rispetto ai vecchi installer e l'altra cosa che mi viene da pensare perché diavolo non avete incluso il doppio installer all'interno della distribuzione ci sono altre distribuzioni che includono un doppio installer all'interno della distribuzione magari potevi mettere uno script di fallback che ti avvisava cioè che ti diceva quando succedeva un crash ti mostrava la finestra della giovane vedi che questo è crashato puoi utilizzare l'altro installer oppure un avviso appena si avviava la distra giovane vedi che abbiamo introdotto questo nuovo installer che potenzialmente potrebbe darti problemi se sei sfigato come Marco e altre persone come Marco e utilizza per sicurezza quello vecchio se non vuoi avere problemi o magari mi avvisavi dice vedi che c'è il nuovo installer potresti andare in conto a problemi perché magari uno distrattamente non vede il vecchio installer o magari non ci pensa perché uno il link principale è quello del nuovo contenente l'iso con il nuovo installer te lo scarichi te lo installi e ti ritrovi con il sistema azzoppato che magari se tu non facci un utente un esperto come me mi do dell'esperto da solo e non dovevi farlo un utente navigato come me che ha mantenuto il sangue freddo ha visto continua l'installazione magari un altro vede il crash subito riavvia il computer si ritrova con il computer azzoppato perché magari in quel momento gli installer stavano ancora facendo passicci con il sistema di partizione o magari aveva appena iniziato a installare le cose e si ritrova con il computer azzoppato e magari quello lì si fa prendere dal panico iniziano a avere problemi che magari non aveva fatto in dual boot magari aveva scaricato soltanto quella isola aveva montata tranquillo diciamo l'aggiorno l'installo e lo trovo scemo questa cosa fatta da Canonica ed mi sono lamentato di questa cosa nel post Ubuntu amore mio amore mio non ti riconosco più fra l'altro poi mi sono lamentato anche di altre piccolezze una delle piccolezze in oggetto riguarda i nuovi caratteri nuove fonte di sistema che sono stati introdotti su Ubuntu 23.04 perché il Canonical Canonical che da diverso tempo propone un suo set di caratteri chiamati Ubuntu che personalmente ho amato e utilizzo ogni tanto anche per alcuni documenti di lavoro che produco bene per questa nuova versione hanno deciso di proporre una nuova versione degli Ubuntu fonts che sono più sottili in gergo tecnico si parla di peso dei font sono più leggeri quindi perché mi lamento di questa piccolezza di questi nuovi font perché oggettivamente almeno con il monitor su 24 pollici 1080p io non li sto apprezzando tanto sto vedendo ho visto anzi perché ho piallato Ubuntu che questi nuovi font non rendono bene preferivo i vecchi font specie per quanto riguarda le schermate su sfondo grigio quindi per farvi capire praticamente tutti quanti i pannelli laterali i pannelli laterali di Nautilus e quant'altro lì i vecchi font che erano un po' più cicciotti avevano una migliore resa visiva anche in questo caso lo vedo come una cosa buttata lì senza starci troppo a pensare non hanno pensato al quadro di insieme così come non hanno pensato al quadro di insieme quando hanno deciso di togliere quel tema il tema GTK intermedio quello con le darbarre nera che c'era sulle vecchie versioni di Ubuntu che trovavo più di impatto era più caratteristico ed era anche più gradevole alla vista sono cose che non mi piacciono così come non mi sta piacendo quello che sta accadendo con con i pacchetti in formato snap oltre a rallentare la distro oltre a essere comunque più lenti rispetto ai pacchetti in formato flat pack perché lo sapete non è un segreto che le applicazioni in formato snap ci mettono più tempo ad avviarsi rispetto alle applicazioni in formato flat pack non facciamo nemmeno il paragone invece con le applicazioni native che su SSD si avviano in un lampo oltre a questo più snap andate a giungere sul vostro sistema più rallenterà in fase di boot e in fase di spegnimento e questa è un'altra di quelle cose che poi non ho scritto nell'articolo però mi ero reso conto del fatto che non ero più abituato alla pesantezza degli snap diciamocelo e perché mi lamento degli snap perché Canonical ha deciso di rendere flat pack free sia Ubuntu che i suoi fervus ufficiali per spingere il suo formato snap che ripeto l'ho sempre difeso il formato snap perché nell'insieme il formato snap così come il formato flat pack sono due formati che aiutano aiutano sia gli eserciopatori di terze parti a proporre le proprie applicazioni all'interno del mondo Linux ne fai una compili per tutte quante le distribuzioni e sono dei sistemi attimi a mio avviso anche per mantenere aggiornati i software su quelle distribuzioni non proprio all'ultimo grido con gli ultimi pacchetti come per esempio una LTS di Ubuntu e io sulle LTS di Ubuntu una delle cose che facevo in passato era quella di installare diversi applicativi in formato snap fra i quali il primo che installavo ogni volta era Gimp gli editor di immagini ne ho parlato questo anche poi in un post successivo dove ho fatto un approfondimento dal titolo cercasi manutentore per lo snap di Gimp disperatamente perché perché non viene più aggiornato correttamente non viene più aggiornato da diverso tempo non solo Gimp ci sono anche una serie di altre applicazioni che non vengono più aggiornate e sono soprattutto quelle applicazioni che venivano mantenute da da Canonical o da volontari che ruotavano attorno a Canonical il pacchetto il pacchetto di Gimp in formato snap è fermo alla versione 2.10.30 e l'ultimo aggiornamento risale al 19 agosto 2022 nel mentre ci sono stati due minor release c'è stata la 2.10.32 uscita il 16 giugno 2022 segnatevi le date nel discorso che sto per fare tra poco e la 2.10.34 uscita il 27 febbraio 2023 queste due minor release sono importanti perché hanno prodotto diverse novità che avrebbero fatto comodo a diversi utilizzatori di Gimp fra l'altro fa ridere che loro il 19 agosto hanno rilasciato la versione 2.10.30 di Gimp quando a giugno era stata rilasciata la 2.10.32 quindi sono andati ancora più indietro con il tempo non lo fa non veniva aggiornata da Canonical nonostante fosse un'applicazione molto importante molto diffusa io non so voi ma io mi aspetterei da parte di Canonical mi aspetto da parte di Canonical un coinvolgimento diretto per il mantenimento di alcuni snap perché se tu vuoi pubblicizzare il tuo store il tuo formato di pacchetti come una una soluzione definitiva a tutti i problemi dell'installazione di programmi di terza parte e quant'altro sulla distribuzione investici due sviluppatorini uno sviluppatore basta uno sviluppatore ma due tre giusto perché casomai viene a mancare qualcuno per poter mantenere aggiornato lo snap di Gimp perché è una delle applicazioni principe che viene utilizzata più spesso dagli utenti linux invece no hanno rilasciato hanno dato tutto in mano alla community e i manutentori i manutentori praticamente si sono delegati tutti quanti non ho ancora approfondito per andare a cercare di capire che fino hanno fatto questi manutentori perché francamente non mi interessa nemmeno tanto poi saperlo perché alla fine ognuno può avere dei problemi vari nella vita che fa questo 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 lavoro tra virgolette di mantenere i pacchetti a gratis per aiutare la comunità ripeto la tiratina d'orecchia a mio avviso andrebbe fatta a canonical che sta cercando di mantenere questo 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 formato e dicendo poi andando sulla pagina github di Gimp ho trovato che in formato snap ha comunque una serie di bug ancora aperti ci sono ben 82 bug segnalati di varia natura alcuni anche importanti a cui nessuno dei manutentori ha dato mal risposta negli ultimi mesi quindi che te fa pensare una cosa del genere che appunto che il pacchetto di Gimp in formato snap sia stato completamente abbandonato a se stesso e che nessun vuotario sia disponibile al suo mantenimento da altra parte poi vediamo che invece il pacchetto Gimp in formato flat park gode di ottima salute in quanto in questo caso è mantenuto direttamente addirittura dagli sviluppatori di Gimp pubblicizzata anche sulla pagina di Gimp ripeto ancora una volta questo mi dà un brutto segnale sia nei riguardi di Canonical sia nei riguardi del formato snap io ho paura che il formato snap finirà per essere l'ennesimo tentativo ma riuscito di Canonical di proporre un suo nuovo standard o una qualsiasi cosa l'abbiamo visto in passato con Mir per poi finire finire nel dimenticatoio che non verrà più utilizzato e magari si adotterà si adotterà il sistema che utilizzano tutti quanti io me lo sento orecchie orecchie che tempo tempo una LTS di mezzo snap sparirà è Canonical dirà così all'improvviso come ha fatto con Mir quando poi ha abbandonato Mir e è passato a Wieland e dirà la stessa cosa o abbandoniamo snap così e passiamo passiamo ad altro passiamo a Flatpak Ubuntu che mi sta a combinare non ti riconosco più come distribuzione e vabbè e vabbè pensiamo al futuro della distribuzione pensiamo a quello che ci aspetterà prossimamente su Ubuntu perché è stato rivelato in nome in codice della prossima release semestrale di Ubuntu ovvero Ubuntu 23.10 che verrà rilasciata il 12 ottobre 2023 avrà come nome in codice Mantic Minotaur quindi Minotaur Mantic Anche in questo caso è una notizia che è buttata lì non è più come in passato se siete utenti di vecchia data di sicuro vi ricorderete i post di Mark Shutterworth spero di avermi piungendo bene perché ogni volta mi incarto con il fatto che stanno gare di mezzo e quant'altro Mark Shutterworth che in passato il padrone di Ubuntu il padrone il capo il capo in persona di Canonical che in passato faceva ogni ogni uscita di Ubuntu faceva passare qualche ora e faceva l'annuncio sul suo blog personale del nome in codice della prossima distribuzione della prossima regrese semestrale e parlava di quelle novità che ci aspettavano parliamo di varie cose quindi partecipava anche attivamente allo sviluppo di Ubuntu quindi faceva sentire che lui ci teneva Ubuntu ma non lo fa più da talversa in release da questa parte veniamo a sapere dei nomi in codice semplicemente perché aggiornano sul launchpad le informazioni sul riposito e creano il nuovo ramo a questo giro devo dire si sono anche un po' sbilanciati perché hanno fatto un tweet addirittura da titolo Ubuntu 23 10 Mantic Minotaur cioè hanno soltanto sparato il titolo del nome in codice della prossima versione di Ubuntu e basta però almeno questo piccolo sforzo ma c'è da dire che mo l'hanno fatto almeno su Twitter che cosa ci aspetta su Ubuntu 23 e Ubuntu 10 vedremo quasi sicuramente GNOME 45 e si spera una versione esente da bug del nuovo installer grafico introdotto con la 23.04 per adesso non abbiamo altre novità in passato si era parlato anche del fatto che volevano introdurre una nuova estensione da andare ad aggiungere alle varie set di estensioni per GNOME Shell che troviamo sulla distribuzione si era parlato di una se non ricordo male per come si chiama il tagging delle finestre poi non si è saputo più niente vabbè comunque se siete interessati a seguire lo sviluppo di Ubuntu 23.10 minotà romantico e date uno sguardo al link che trovate sulle pagine di Marcosbox con il piano di rilascio quindi le varie tappe nello sviluppo di Ubuntu da quando ci sarà la beta quando ci sarà il freeze dei pacchetti e quant'altro voi utilizzate anche Ubuntu fatemelo sapere concludiamo questa parte dedicata alle distribuzioni parlando del nuovo post pubblicato da Clement Lefebvre il patron di Linux Mint Creme per gli amici anche in questo caso sono proprio vecchi quando faccio queste battute dice che come pensate ad ogni fine mese Clement Lefebvre pubblica sul blog di Linux Mint un post dove ci fa il riassunto dello sviluppo di Linux Mint e di Cinnamon e ci parla anche di quante donazioni il progetto ha ricevuto lo scorso mese gli sviluppatori ci avevano parlato del lavoro da parte del team di Linux Mint per migliorare l'aspetto di Cinnamon introducendo alcune migliori grafiche che vediamo sulla 21.2 su Linux Mint 21.2 principalmente restyling dei temi delle cartelle e quant'altro questo mese Creme torna alla carica e ci mostra quello che è stato fatto o meglio che vedremo riguardante come si chiama i tooltip e riguardante anche le notifiche gli sviluppatori hanno deciso finalmente vabbè anzi finalmente vabbè perché perché ora ve lo dico finalmente scusate ho dato una botta al microfono diciamo perché dico finalmente perché perché io mi è da ridere si sono accorti ancora di una cosa orribile chissà quando si accorgeranno del resto della distribuzione anzi del resto dell'aspetto grafico di Cinema gli sviluppatori di Linux Mint hanno deciso di rendere più corrente l'aspetto della distribuzione andando a migliorare i tooltip che fino ad adesso avevano un aspetto leggermente diverso a seconda della provenienza se era un'applicazione GTK2 GTK3 o un'applicazione o meglio nativa di Cinnamon oltre che a presentare un antiestetico bordo grigio e finalmente dopo anni io non so come hanno avuto l'illuminazione hanno scoperto che il colore giallo per i tooltip era passato di moda non veniva più utilizzato da nessuno quanti anni ci avete messo per accorgervi di questo di quello proprio che era quel colore giallino messo lì dei tooltip vabbè adesso o meglio sulla prossima versione di Google Smith i tooltip prenderanno il colore dell'accento scelto per il sistema ed è una cosa graficamente più carina sono state anche poi fatti partendo prendendo spunto da Lua Ita sono stati resi i tooltip più grandi più rotondi con i margini più ampi e sono più carini graficamente sul blog trovate uno uno screenshot dei nuovi tooltip è stato anche aggiunto un po' di spazio tra gli applet e i tooltip in modo tale che su cinema non c'è più non vengono più bloccati nel pannello questi tooltip e anche vabbè questa ci hanno messo tantissimo tempo per raccoggersi di queste cose anche le notifiche poi sono state modificate e anche le notifiche in questo caso utilizzeranno il colore dell'accento quindi se utilizzate il tema classico quello celestino quello nuovo classico perché prima era verde ma era celestino sarà tutto in panda tono su tono diciamo così anche questi piccoli cambiamenti però se voi andate a guardare nel complesso aiutano molto a rendere l'aspetto del desktop più pulito e moderno e ci volevano bravi quelli di inus quindi finalmente si sono accorti che dovevano fare qualche cosa non lo so hanno fatto fino a me comunque le altre novità da parte del team di linux mint riguardano il piano di rilascio estivo di linux mint o meglio se siete nell'emisfero sud il piano di rilascio invernale sono un programma tre rilasci per quest'estate esso erano in quest'ordine il primo riguarda l'arrivo di linux mint 21.2 che vedrà tutte queste novità grafiche di cui vi ho parlato verrà poi rilasciata la edge iso con kernel 5.19 e vedremo poi il rilascio tanto atteso da molti di voi di linux mint debian edition 6 basata sull'uminente rilascio di debian 12 cui rilascio è previsto per giugno quindi questi sono il piano di rilasci e ci hanno anche detto quanto tempo intercorrerà tra il rilascio di linux mint 21.2 e il rilascio di linux mint debian edition 6 circa a distanza verranno pubblicate le due versioni a distanza circa di un mese l'una dall'altro però non sono stati ancora pubblicati non si è stata ancora pubblicata la data di rilascio di linux mint 21.2 quindi di conseguenza non sappiamo quando verrà rilasciata ci saranno poi altre due novità sulla prossima versione di linux mint la prima riguarda una correzione che è stata che verrà portata a secure boot se siete in dual boot windows linux di sicuro avete avuto modo di di dover scontrarvi con il secure boot se lasciate il secure boot attivo per un motivo o per l'altro non vi parte la vostra distribuzione preferita o meglio la maggior parte delle distribuzioni preferite non hanno il supporto a secure boot mi viene da pensare a pop os mi viene da pensare a mangiare e in questo caso per colpa di ubuntu anche linux mint ha problemi adesso con il secure boot in passato non lo avevo ma adesso ce li ha perché perché un aggiornamento del pacchetto sim di ubuntu ha rotto la compatibilità di tutte quante le iso di linux mint e delle precedenti anche ubuntu derivate quindi ha fatto un pastrocchio ubuntu anche in questo caso ma vedi che è combino ubuntu dicevo ha rotto la compatibilità di tutte le iso di linux mint con secure boot per questo motivo non si riesce a installare linux mint se secure boot è attivo quindi se volete continuare a farlo fin quando il team di linux mint non ci metterà una pezza dovete disabilitare il secure boot e poi non potete giocare a valorante su windows per questa notte di quelle cose che soltanto mio nipote capirà attualmente dicevo gli disegruppatori di linux mint stanno lavorando con una correzione per le future iso e stanno anche cogliendo l'occasione per rivedere il modo in cui vengono prodotte le iso infine l'altra novità dal fronte di sviluppo riguarda l'ottimizzazione che stanno facendo dal punto di vista della sicurezza di warp editor l'applicazione per la condivisione di file all'interno della rete locale lo strumento grazie anche alla community di open source lo strumento ha ricevuto adesso anche il supporto per landlock bubble warp queste tecnologie sono utilizzate per garantire l'isolamento delle cartelle rendendo warp tecnicamente incapaci di scrivere al di fuori della cartella di download dedicata e mi fa piacere che stanno lavorando su questo fronte sicurezza che quando si lavora sulla sicurezza è sempre cosa buona e giusta bravi quelli di linux mint cattivi quelli di ubuntu e passiamo adesso agli ultimi due argomenti di questa puntata del podcast di marcosbox che sono due articoli a firma di luca moscato riguardanti uno ubuntu è nata una riflessione la prima il primo articolo è pulizia del kernel di primavera sapete bene che durante il ciclo di vita di una versione lts di ubuntu può capitare che la versione del kernel venga giustamente aggiornata però ci ritroviamo tutti quanti i vecchi kernel che rimangono installati nel nostro sistema e può essere utile fare una pulizia per liberare spazio e quant'altro in questo suo articolo guida luca moscato ci spiega come poter fare a fare pulizia dei vecchi kernel quindi vi spiega da riga di comando come fare andatevi a leggere l'articolo perché sono quelle cose che è utile sempre sapere e infine troviamo un editoriale di luca dal titolo e se non fosse linux il problema questo suo editoriale va a rilacciarsi anche in un certo senso con la mia serie di articoli diffusione di linux di chi è la colpa andatevi a recuperare sulle pagine di marcos box ne faccio uno ogni cinque anni ho iniziato nel 2011 poi l'ho fatto 2016 2021 il prossimo lo vedremo fra qualche anno speriamo che le cose migliori nel frattempo dicevo in questo suo editoriale luca tiene un po' in considerazione un'altra va a analizzare un altro punto di vista e se non fosse il problema della diffusione di linux ed open source se non fosse legato strettamente al linux ma fosse legato alle applicazioni perché è una cosa molto importante questa perché noi delle volte parliamo sempre diamo sempre la colpa al linux che è ostico e difficile diamo la colpa alle distribuzioni diamo la colpa ai desktop environment però non ci soffermiamo mai sulle applicazioni su quelle essenziali quelle importanti che la gente utilizza mi viene da pensare agli editor di test quindi al suite d'ufficio mi viene da pensare ai programmi di editing di immagini come appunto Gimp mi viene da pensare al fatto che mancano applicazioni per il disegno CAD poi ci sono alcune applicazioni invece per l'editing video che si sono buone ma non buone quanto determinate altri applicativi uno delle volte dice però ci mancherebbe perché queste sono gratuite vengono mantenute dalla comunità non c'è dietro qualcuno che ci investe soldi per poterle migliorare però ci stiamo perdendo come comunità e non stiamo guardando non stiamo guardando le applicazioni che è una delle cose più importanti perché abbiamo bisogno per poter convincere la gente a passare dalla nostra parte per poter consentire la diffusione dell'open source e del software libero dobbiamo pensare anche che dobbiamo cercare come comunità di coalizzarci per migliorare le applicazioni che sono in giro sia dal punto di vista dei contributi attivi scrivendo codice se siamo in grado di poter scrivere codice sia anche dal punto e soprattutto anche dal punto di vista del supporto economico che dobbiamo fornire agli sviluppatori che sviluppano applicativi importanti come subito l'ufficio come editing di immagini e quant'altro dobbiamo fare dobbiamo supportare questi qua perché se noi li supportiamo economicamente con codice e con qualsiasi altra attività volta a portare più risorse sia umane che economiche queste applicazioni rimarranno sempre lì non compieranno mai il salto il salto quantico che li porterà ad essere apprezzati non solo apprezzati ma anche a essere competitivi con le applicazioni proprietarie poi ci sono anche applicazioni che non sono proprietarie ma che vengono riuscite in maniera gratuita anche sul mondo su mondo windows quindi noi dobbiamo competere dobbiamo competere prima di tutto con le applicazioni fatemi sapere voi che cosa ne pensate andate a leggere l'articolo di Luca questa sua riflessione che è molto importante e beh con questa ultima notizia si conclude qui questa 144esima puntata del podcast di Marco's Box so che è venuta una puntata conchissima ma c'erano alcune cose che avevano necessità di essere spiegate per bene o spero di averlo fatto o meno vi ricordo come sempre che potete seguirmi sulle pagine del blog utilizzando i feed RSS che trovate indicati in basso mi sembra che l'ho messi questa volta potete seguirmi tramite la pagina facebook del pacco di Marco di Marco's Box potete anche aggiungimi come profilo personale quindi vi posso seguire anche lì e vi posso rispondere il tempo permettendo anche sul profilo personale però se vi scrivete alla pagina facebook è meglio direttamente così è meglio la facciamo la facciamo alzare un po' di numeri mi trovate su twitter sia col profilo personale che con quello di Marco's Box mi trovate su youtube dove pubblico ogni tanto qualche video recensione o qualche video o quant'altro e che potete utilizzare anche adesso per ascoltare i podcast tramite youtube music perché da qualche tempo youtube ha dato la possibilità di convertire le playlist youtube in playlist podcast di convertire in rss podcast diciamo quindi se utilizzate l'applicazione youtube music adesso cercando i podcast di Marco's Box troverete tutte quante le puntate che vado poi a ripubblicare mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting quindi Anchor che adesso fa parte di spotify quindi mi trovate su spotify apple music google podcast mi trovate su amazon amazon music mi trovate con la skin dedicata per amazon anche se non viene aggiornata parecchio mi trovate ovunque se vi volete trovare se vi volete ascoltare se mi volete leggere mi trovate su linkedin mi trovate anche su mastodon1 e mi trovate anche e soprattutto su telegram dove sono all'attivo tre canali il canale principale diciamolo così che potete utilizzare a mo' di feed rss nel quale ripubblico le notizie e anche qualche cosina ogni tanto che mi venga da postare link ad altri siti ma immaginette divertenti a tema informatica e quant'altro trovate poi la community telegram di marcosbox dove potete commentare le notizie e potete parlare di quel che vi pare e vi piace quindi c'è il cazzeggio libero ed infine trovate anche un canale telegram dedicato alle offerte amazon sapete bene come funziona voi acquistate da uno dei link referral e amazon mi riconosce una piccola percentuale potete utilizzare questo sistema per sostenere il blog se vi piace quello che dico se vi piace quello che scrivo se trovate utile interessante oltretutto potete potete utilizzare il codice marcosbox trattino 21 anche mandandolo a mettere su su amazon se non sapete come fare andate a cercare su internet perché posso dire così a voce potete effettuare comunque una donazione se volete supportare il blog tramite paypal e potete anche supportare il blog tramite l'acquisto di una vpn sul blog di marcosbox trovate un link con il link affiliazione di nordvpn di surfshark e di atrasvpn che sapete fanno parte tutta della stessa famiglia di nordvpn perché nordvpn ha fatto man basso di tutti i servizi vpn per essere l'unico capoccia delle vpn però comunque queste tre vpn che vi ho nominato nordvpn surfshark e atrasvpn hanno prezzi diversi hanno anche funzionalità specifiche in alcuni casi quindi scegliete voi la soluzione che ritenete più idonea se volete utilizzare un servizio di vpn se volete utilizzare il mio link refera per potermi supportare lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo spero la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcusbox ciao ciao